Buongiorno e benvenuti qui in diretta da Palazzo Mezzanotte per una mattinata all'insegna del dibattito e del confronto su temi attuali e centrali nel mondo del lavoro che analizzeremo a 360 gradi, individuando l'evoluzione che sta vivendo il settore, affrontando i problemi che lo riguardano sempre più da vicino fino a allineare possibili scenari futuri e lo facciamo in compagnia dei nostri ospiti, do il benvenuto al dottore Marco Lombardo, caporedattore del giornale ed esperto di nuove tecnologie. Buongiorno. Buongiorno. E do il benvenuto anche all'avvocato Failla, founder dello studio legale Failla & Partners. Buongiorno. Ecco, con voi comincerei affrontando un focus in particolare legato al mondo del lavoro, ovvero lavoro e intelligenza artificiale, vantaggi e limiti nella gestione delle risorse umane. Perché? Perché oggi è evidente l'intelligenza artificiale ha un ruolo sempre più centrale nella nostra quotidianità e anche nel mondo del lavoro. Sta prendendo sempre più piede, lo sta modificando e progressivamente lo modificherà sempre di più. Ma al di là di profezie che oscillano tra scenari istopici e terre promesse, quel che è certo è che dobbiamo comprendere come abbracciare l'intelligenza artificiale, qual è la ricetta giusta per integrarla nel mondo del lavoro, nelle aziende, per incrementarne la produttività. Ed è importante che tutti gli attori coinvolti ne siano consapevoli i giustelavoristi, i char manager, i lavoratori stessi e le aziende. Quindi man mano che sperimentiamo l'uso dell'intelligenza artificiale generativa nelle aziende, anche le riflessioni sul tema subiscono delle variazioni. E quindi vorrei analizzare con voi questo aspetto. Mi rivolgo a entrambi. Abbiamo accolto l'intelligenza artificiale con una certa diffidenza e con paura. Oggi però non ci si chiede più tanto se saremo sostituiti dalle macchine, quanto come integrare la macchina nel nostro lavoro, appunto per incrementarne la produttività. Ecco, io vi chiedo, secondo voi, qual è effettivamente la strategia da mettere in atto? Qual è la risposta che dareste? Ma dunque, innanzitutto la prima strategia è quella di mettere un po' di ordine, nel senso che, come sempre, si parla molto per slogan, quindi le persone acquisiscono delle conoscenze a volte anche un po' superficiali, ma è colpa un po' anche nostra, operatori della comunicazione. Innanzitutto partiamo da un concetto che l'intelligenza artificiale è stata chiamata così proprio per semplificare quello che fa, ma in realtà già ci sarebbe da discutere sulla parola intelligenza, quindi già il punto di partenza è un po' complicato. E poi c'è anche da dire che l'intelligenza artificiale, quella che oggi tutti dicono essere l'intelligenza artificiale generativa, in realtà il generativo è una parte dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale, così come viene definita, è composta da diverse componenti, c'è il machine learning, c'è il deep learning e poi c'è la generativa AI, che è proprio quella che completa tutto questo tipo di lavoro. Questo per dire che è un lavoro complesso, che sicuramente dà dei risultati molto importanti, ma che va utilizzato nella maniera giusta. Come? Sì, è vero, c'è la paura di dire la macchina sostituirà l'uomo, in realtà non sarà così. Bisogna capire come la macchina accompagnerà l'uomo verso un nuovo tipo di lavoro, che è tutto un concetto assolutamente differente. E su questo bisogna un po' fare, come dire, proseliti, nel senso che bisogna cominciare a dire a tutti, cominciamo a parlare di intelligenza artificiale in maniera seria, completa e applicata a quello che deve essere il mondo del lavoro di domani, ma domani in realtà oggi pomeriggio, insomma, per cui... Ormai è sempre più attuale. Per cui quindi il primo passo, secondo me, è questo. Fare ordine, spiegare bene le cose, farle capire anche alle persone che giustamente non hanno le competenze per capire questo tipo di tecnologia che è molto complessa. Anche noi che ci occupiamo di tecnologia e innovazione facciamo fatica a star dietro all'evoluzione. Quindi cominciare a fare... E la prima missione è questa qua. Dopo, il secondo discorso che poi affronteremo, è quello di come puoi applicarla al mondo del lavoro. Certo, quindi colgo l'occasione per chiedere anche all'Avvocato Failla cosa pensa a riguardo. Qual è la risposta, se c'è effettivamente una ricetta, secondo lei? Vabbè, la ricetta non c'è. Se esistesse avremmo vinto il premio che tutti ambiscono di vincere. No. Allora, ovviamente la distinzione fra catastrofisti e terre promesse è una distinzione anche facile, come noi siamo facili a dividerci tra fazioni. La domanda è se le macchine sostituiranno l'uomo. Ci sono fiumi di studi che vanno in un senso o nell'altro. Io parlo dalla mia esperienza di lavorista, di giuslavorista che da 30 anni assiste alle aziende. Io ogni volta che ho visto innovazioni, innovazioni introdotte a livello tecnologico, a livello produttivo, per migliorare la produttività delle aziende, inevitabilmente queste innovazioni che tutti chiediamo, che tutti critichiamo, le aziende per non fare abbastanza innovazione, c'è tutto il tema della produttività, l'Italia che non riesce, eccetera. E ogni volta che c'è stata queste innovazioni abbiamo sostituito, abbiamo ridotto i posti di lavoro. Indubbio. L'ho visto. Cioè nel senso che quando tu implementi una nuova linea produttiva con macchine più potenti, migliori, più intelligenti, inevitabilmente tagli il personale. Certo, c'è un risvolto di una vita. È inevitabile, è inevitabile, perché la macchina fa cose migliori e più in fretta di quelle che dovrebbe fare l'uomo. A volte anche erroneamente. A volte anche erroneamente. Poi cosa succede? Che quella macchina richiede un personale diverso, con una formazione migliore, elevata, differente da quella che c'era prima. E quindi inevitabilmente c'è un processo, lo dico male, ma di obsolescenza professionale. Perché è inevitabile che il personale che è 30 anni, che fa quel lavoro nello stesso modo, non sia in grado, non c'è la possibilità evidentemente di neanche approcciarsi a una formazione per utilizzare quello nuovo componente. Ci vogliono nuove professionalità e poi lì si apre il mondo, ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, le dobbiamo formare, eccetera. Quindi l'esperienza che ho concreta è questa. Ogni volta che le aziende hanno fatto innovazione, hanno introdotto innovazione all'interno delle loro linee produttive, hanno ridotto personale per migliorare la produttività. Quindi questo è un trend. Oggi noi facciamo una sfida perché l'intelligenza artificiale è un'innovazione velocissima, rapidissima, è difficile prevedere cosa succederà tra un anno, due anni, tre anni. C'ha GBT, c'è già cambiato la vita, io riesco a fare nel mio studio dei pareri, abbiamo fatto delle scommesse, persona che fa il parere e chat che fa il parere. Devo dire che su certi temi lo fa bene, lo fa benino. Basta dare le giuste indicazioni e c'è la GBT, sa rispondere. Lo fa benino. Quindi credo che anche nel mondo dei servizi si sta ragionando. Poi noi vediamo i trend dei nostri colleghi in Nord America. Lì stanno sostituendo i professionisti di certe aree, alcuni si parla anche di giornalisti evidentemente. Certo abbiamo la piramide, la piramide che sappiamo tutti, la cima rimarrà presidiata, la base rimarrà presidiata e probabilmente la media professionalità sarà quella che sarà. Quindi è un discorso ampio, difficile perché questa innovazione è un'innovazione velocissima ed è difficile da governare. Io vedo qui sì un grosso problema, adesso sì a livello europeo ci stiamo muovendo con la direttiva sull'intelligenza artificiale, però stiamo sempre, come dire, cercando di proteggere, di mettere degli argini a un'innovazione che non si ferma e non si fermerà. Quindi io credo che questo sarà un tema veramente importante. Io mi ricollego proprio a queste osservazioni perché abbiamo parlato di innovazione rapidissima, abbiamo parlato anche di formazione. Sono due argomenti, due temi strettamente connessi e l'avvento dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro porta la questione in primo piano. Se si parla di rivoluzione, come ogni rivoluzione che si rispetta, questa porta con sé sicuramente un aumento di richieste, di competenze. Ma vi domando, c'è il rischio che le persone non abbiano né il tempo né il modo per formarsi? È un rischio che l'intelligenza artificiale effettivamente porta con sé. Come si potrebbe provare a sopperire a questo problema? Mi rivolgo a entrambi ancora una volta. Ma io credo che ci siano due parole che riassumono tutto questo discorso, che sono talento e qualità. Nel senso che non è vero che si faccia fatica a trovare la formazione da fare, il problema è quale formazione, perché se oggi tu vai anche banalmente sul web, su internet, di corsi di formazione professionali ne trovi a migliaia. Il problema è sapere come li fanno, in che modo, qual è lo scopo. Allora, come diceva l'avvocato, no? C'ha GPT, è capace di fare un parere, così come è capace di fare un articolo. Però se io mi accontentassi, e io lo dico, lo utilizzo ogni tanto, quando mi capita di dover scrivere delle cose per cui dovrei fare una ricerca lunga, no? Magari mi affido per cercare le cose che mi servono, ma se poi non le controllo e scrivo un articolo che esce con dei dati sbagliati, che figura ci faccio? Cioè, il problema fondamentale è che bisogna capire che l'intelligenza artificiale è un compagno, un aiuto, qualcosa che ci fa risparmiare molto tempo, ci dà la possibilità, facendoci risparmiare molto tempo, di essere molto più attenti e quindi di offrire più qualità. Allora, faccio un esempio banale sul mondo del lavoro, no? Oggi ho preso la metropolitana per venire qui. La metropolitana è uno degli esempi di come la tecnologia sta cambiando, perché tutte le nuove linee metropolitana si fanno senza conducente e probabilmente anche quelle vecchie un giorno arriveranno con dei mezzi senza conducente e tu dirai, i conducenti cosa fanno? Beh, se tu li riqualifichi, perché se tu offri una metropolitana tecnologicissima, ma poi non hai sicurezza, qualità del servizio, assistenza e tutte queste cose per cui la gente poi non la prende perché non si sente a suo agio, hai speso un sacco di soldi e il risultato è che non hai nulla. Quindi questo esempio qua, che vale per molte cose, vale anche per il mio mestiere, se i giornali continuano a uscire con dei pezzi scritti da CiaGPT, alla fine non li compra più nessuno, perché non c'è qualità, non c'è pensiero critico e in tutte queste cose la formazione deve accompagnare questa rivoluzione inevitabile, non è che si può dire ci si può mettere in mezzo alla strada con i cartelli e opporsi alla rivoluzione, la rivoluzione è un progresso tecnologico, ma bisogna accompagnarlo, quindi la formazione va fatta in questo senso. E qual è il senso? È fare esplodere il talento delle persone, ogni persona ha un talento. Quante persone dicono ho lavorato tutta la vita in un posto che non mi è piaciuto a fare un lavoro che non mi interessava, perché io in realtà volevo fare un'altra cosa, no? Allora forse questa è l'occasione per cui la gente si è più contenta di fare, di lavorare in qualcosa in cui si sente più adatto, no? Non passare la vita, andare a timbrare il cartellino in un ufficio a fare una cosa che non le piace. E questo è il senso della formazione, corsi di formazione possiamo farli tutti i giorni imparando niente. Il senso della formazione è fare dei corsi che aiutano le persone che vogliono migliorare, vogliono magari cambiare, vogliono accompagnare questa rivoluzione con dei dati certi, delle basi solide, sapendo che il loro talento e la qualità complessiva di quello che offri viene moltiplicato proprio grazie all'intelligenza artificiale. Questo è interessante perché probabilmente dal suo spunto mi viene da pensare che paradossalmente è proprio una rivoluzione così artificiale, digitale, può umanizzare maggiormente i lavoratori. La macchina fa calcoli, la macchina non pensa, fa calcoli, solo che li fa mentre noi ne facciamo uno ormai, anche purtroppo con la testa che avanza, ne facciamo uno in un minuto, la macchina in un secondo ne fa trilioni. E questo è un aiuto per noi. Certo, un vantaggio, un abbatte il tempo, è una risorsa sicuramente in tal senso fuori discussione. E se il discrimine è ancora una volta la qualità, ancora una volta io all'avvocato Failla quindi chiedo quale strategia metterebbe in atto. No, ma la qualità è fondamentale, evidentemente la qualità fa la differenza nel mondo del lavoro perché lo sappiamo soprattutto nelle attività di servizi, la qualità qualifica il prodotto e il servizio. Ritorno al tema che il discorso è ovvio che ci trova tutti d'accordo, dobbiamo sviluppare la qualità, sviluppare i talenti, aiutare, ma lì non è un tema del lavoro. Allora quello lì è un tema che, come dire, è a valle, anzi è a valle del lavoro ma dovrebbe essere, come dire, gestito molto molto prima, molto molto prima. Tema anche dei datori di lavoro. È un tema di orientamento, è un tema di formazione, è un tema di istruzione. Cioè voglio dire, quando si arriva al lavoro e si è già su un binario morto, è un binario sbagliato perché non ho scelto quello che dovevo fare o che mi sentivo di fare o non ho capito qual era il mio talento, abbiamo già fatto un disastro. E questo poi noi lo vediamo perché ogni volta che non si matchano le esigenze dell'azienda con le aspettative del lavoratore, lì abbiamo la patologia. Lo vediamo. E poi è una cosa che vediamo sempre più spesso oggi perché il riconoscimento del talento, il riconoscimento della qualità, il mancato riconoscimento del talento e della qualità sul lavoro di lavoro creano la patologia. Quindi questo qui lo vediamo. È un discorso che forse non so fino a che punto le aziende riescono a gestire da sole perché dovrebbero, le aziende oggi cercano delle professionalità. Leggiamo ogni giorno che mancano una serie di professionalità, non sappiamo dove trovarle e bla 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 bla. Benissimo. Allora le aziende cercano le professionalità che servono per fare andare avanti il business, per fare andare avanti l'attività, per fare andare avanti l'azienda. Queste sono le iniziative, voglio dire. Quindi io credo che sia un tema di responsabilizzazione anche dell'individuo. Cioè l'individuo, quando facciamo le giornate di formazione in università, ciascuna di università cerca di attrarre il maggior numero di iscritti. Io dico sì, ma dite anche, quando presentate all'università, legge, filosofia, lettere, sono tutte quelle attività meravigliose, dite anche le soglie di percentuali di realizzazione occupazionale post laurea. Perché io so che se uno si laurea in ingegneria disoccupato non lo rimane, salvo che siano scelta consapevole. Altre facoltà non assicurano questa stessa riuscita. Allora uno deve sapere che se il suo talento è quello, se la sua amore e la sua passione lo porta su quella strada, deve mettere in conto che forse avrà maggiori difficoltà occupazionali, perché l'Italia oggi è un paese che cerca certe professionalità. Cerchiamo i macellai. Nessuno vuole più fare il macellaio. Non è che studiare da macellaio. Devi andare a bottega e imparare un mestiere. no? Quanti ragazzi decidono consapevolmente? C'è il tema poi, come dire, anche della fuga dalla fabbrica, c'è tutto un mondo, c'è un argomento larghissimo. Quindi io credo che le aziende cercheranno sempre di più le professionalità che servono. Il tema della ristorazione. Non abbiamo, il mondo della ristorazione non trova personale. Perché? Perché nessuno vuole più fare. È assolutamente vero, la gente è sempre al ristorante, eppure c'è sempre personale. Sempre più. Poi l'Italia è un paese dove, voglio dire, la ristorazione la fa la padrone. Ecco, però noi non troviamo personale. Perché? Mille cose, sfruttamento, togliamo al netto delle cose. C'è poca vocazione su quel settore, perché è un settore che richiede molto sacrificio in termini di orare di lavoro, in termini di presenza, bla bla bla. Benissimo. e loro continueranno a chiedere, cioè quel settore continuerà a chiedere personale e io credo che la risposta sarà che lo andremo a cercare da qualche altra parte. Perché se non lo si trova in Italia, quel personale lo dobbiamo andare a cercare. Ci sono dei settori che si appoggiano in maniera importante su lavoratori estracomunitari o comunque non italiani o comunque stranieri. E vanno benissimo. Cioè questo è un trend di cui dovremo preoccuparci. Questo è un altro discorso. Se allarga poi apriremo un'altra parentesi. Sicuramente. Credo che dovremmo andare anche lì, insomma. Assolutamente. Perché effettivamente in qualche modo dimostra il cambiamento nella concezione del lavoro in primis, oltre a un cambiamento direi prettamente sociale, per cui delle nuove generazioni si notano delle sostanziali differenze rispetto a chi le ha precedute e quindi anche l'approccio al lavoro cambia. Per restare invece in questo fil rouge, ora mi rivolgo al dottor Lombardo. C'è il tema della formazione appunto che ha un ruolo chiave oggi anche con l'avvento dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Ma se in Italia dobbiamo fare un enorme sforzo nella formazione, è un investimento che va fatto, è pur vero che negli ultimi decenni questo sforzo è stato invece completamente accantonato. Ma è fondamentale riprenderlo in mano per poter essere competitivi, per poter giocarsela con i competitor globali, due fra tutti, Stati Uniti da un lato, Cina dall'altro. È un gap colmabile secondo lei? Ma è un gap colmabile se si cambia proprio la metodologia a cominciare non dai corsi di formazione ma a cominciare dalla scuola che purtroppo, lo dico per testimonianza diretta, avendo tre figli quindi ho un percorso scolastico diciamo abbastanza lungo, purtroppo per molti versi è rimasto a una vecchia metodologia per cui devi studiare per dire tre volte la storia di Roma e Giulio Cesare perché te la insegnano all'elementare e le medie e poi te la riprendono al liceo ma poi per esempio non sai non sai programmare un computer perché non è una cosa che per una scuola ma sì lo fanno all'istituto tecnico che è la cosa più sbagliata tra l'altro trattando gli istituti tecnici come se fossero figli di un dio minore, quasi distrattati, che in realtà gli istituti tecnici all'estero sono quelli che formano i tecnici appunto di alta qualità e di grande valore quindi è proprio il discorso che il cambiamento secondo me deve partire da lì, cioè non puoi riempire le giornate di questi poveri figli di compiti, verifiche fatte tanto per imparare un po' a memoria che poi se lo dimenticano dopo tre secondi. Ci vuole, certo è un discorso complicatissimo perché poi quando si tocca la scuola in Italia diventa tutta una roba difficilissima, bisogna riqualificare gli insegnanti e anche lì si apre un altro capitolo bisogna cambiare le teste dei ragazzi e si apre un altro capitolo. Io ho la fortuna di insegnare diciamo a livello universitario e quando mi arrivano i ragazzi usciti dal liceo io sono francamente a volte preoccupato perché al di là delle nozioni che non proprio siamo allo base ma francamente è proprio la testa che non fa lo switch e la cosa la cosa difficile o ancor più oggi è uscire dal liceo quindi dalla scuola per entrare nel mondo universitario avendo una vaga idea di quello che si vuole fare oppure avendo un'idea di quello che si vuole fare pensando che e poi scoprire che non è quella cosa lì e questa è la differenza. Poi dopo puoi fare tutti i corsi di formazione che vuoi ma se non si comincia a pensare che questa rivoluzione che è una rivoluzione che non è che diciamo è nel 2050, no nel 2025 cioè fra sei mesi è già cambiato tutto, è già cambiato tutto un'altra volta e cambierà ancora dopo sei mesi un'altra volta e poi cambierà dopo tre. Cioè la velocità ormai è questa se non si prende in mano questa cosa qui e si dice bene allora cominciamo dall'inizio ricominciamo dall'inizio, cosa vogliamo portare a fare questi ragazzi quando usciranno dalla scuola dell'obbligo? Cosa vorremmo fare se affronteranno l'università? Vorranno lavorare nel mondo della ristorazione ma in che modo? Perché anche lavorare nel mondo della ristorazione non è più lavare il piatto o servire al tavolo e gestire una cosa complicata perché oggi vai nei ristoranti hanno tutti il pad, hanno l'organizzazione dei tavoli, l'organizzazione dei conti, cioè è tutta una cosa diventata molto più complicata per certi versi anche molto più appagante perché fai un lavoro che non è quello dinamico, ma è completamente diverso per cui proprio da lì si parte, no? Perché se no dopo tu arrivi a 23, 24 anni, esci anche dall'università, ti guardi intorno e dici e mo' cosa faccio? Certo, in effetti proprio per la molteplicità di settori che stanno cambiando la formazione non è qualcosa di così scontato ma assume delle sommature molteplici direi. Questa volta invece mi rivolgo all'avvocato Failla perché sono interessata ad analizzare l'argomento anche da un punto di vista più prettamente giuridico e quindi ecco le chiedo qual è la sfida dal punto di vista del diritto del lavoro, quali sono gli interventi necessari e le chiedo anche se esiste una legge in grado di tutelare i lavoratori davanti ai nuovi e molteplici rischi dell'intelligenza artificiale perché lo abbiamo detto sta comportando una rivoluzione velocissima, lo avete sottolineato entrambi, tutto cambia in men che non si dica. Ma allora la legislazione del lavoro come sempre è una legislazione, soprattutto quella italiana, è una legislazione di protezione, non è una legislazione che assiste, soprattutto quella del lavoro, l'azienda o il lavoro nell'andare avanti, è una legislazione che difende, è una legislazione di trincea storicamente, fissa dei paletti invalicabili, fissa dei paletti che sono i diritti del lavoratore che non devono essere intaccati, quindi questa è storicamente la funzione, quindi non si potrà chiedere alla legislazione del lavoro di fare altro, questa è la sua cosa succede, che nel diritto del lavoro sotto profilo della tecnologia, dell'innovazione eccetera abbiamo lo statuto dei lavoratori che fissa dei paletti invalicabili che dicono sostanzialmente che le nuove tecnologie non devono andare a discapito della tutela, della privacy del lavoratore e quindi sostanzialmente le innovazioni tecnologiche che in qualche modo impattano e tutte le innovazioni tecnologiche impattano dalle iPad al nuovo programma, alla video, cioè tutte queste innovazioni tecnologiche, l'algoritmo impattano sul rapporto di lavoro, quindi devono essere in qualche modo dichiarate e negoziate con le organizzazioni sindacali, quindi questa è trasparenza, me lo devi dire, se tu introduci una tecnologia che in qualche modo impatta sul rapporto di lavoro, sulla prestazione lavorativa, me lo devi dire, se non lo fai c'è una breach, sei già in violazione e tutto quello che farai come azienda sarà considerato illegittimo e potrà essere sanzionato dal giudice del lavoro. Oggi l'algoritmo non licenzia, vado proprio all'estremo, l'algoritmo non licenzia, è sempre l'uomo che licenzia, è sempre l'azienda che prende una decisione, ma l'algoritmo aiuta a comprendere chi è produttivo e chi è meno produttivo, per esempio. È l'algoritmo che ci dice chi fa più cose rispetto a un altro. L'altro ieri ho visto un video, incredibile, non era italiano, c'era una caffetteria, non so se l'avete visto anche voi, girava sulla rete, una caffetteria e si vedeva la caffetteria e i clienti a sinistra, una specie di Starbucks e a destra c'erano 3-4 persone che servivano e davano prodotti, cappuccini, cose eccetera. Ognuno di questi aveva uno schermino sulla testa e con un numero crescente che misurava le coppe di caffè, le tazze di caffè che venivano servite. Quindi quello era la tecnologia con un sistema di misurazione, perché poi è metrico. Negli anni 70 nelle aziende, nelle fabbriche girava un omino che faceva tempi e metodi, girava con un cronometro e misurava i pezzi che alla linea Tizio faceva rispetto a Caio, tempi e metodi. Adesso non c'è più l'omino che gira, c'è la tecnologia, c'è l'algoritmo che ci dice esattamente chi è più produttivo, perché poi alla fine è quello. Allora quella cosa lì in Italia non si può ancora fare, perché per fare una cosa così o la fai legalmente o se no la devi dichiarare, perché è una tecnologia che impatta sul controllo a distanza dell'attività lavorativa, quindi la devi negoziare col sindacato, l'organizzazione sindacale ti dirà che non la puoi fare, quindi andrà a discutere davanti al Ministero del Lavoro eccetera eccetera eccetera. Una trafila un po'. Una trafila, ma non pensate, nessuno possa pensare che queste cose siccome sono difficili da fare non si facciano, si fanno, si fanno perché la tecnologia è talmente evidente, io quando discuto con le aziende mi dicono ma io ho comprato questo programma che mi consente di fare tutto questo e dico sì ma c'è la legge che ci direbbe che questo programma voi lo potete utilizzare solo se lo avete dichiarato, negoziato, discusso, con delle limitazioni, ma noi l'abbiamo già utilizzato, ma ce lo vendevano, ma se è in commercio come fa a essere illegale, quindi c'è questo grande tema, quindi il diritto al lavoro si scontra su questo, sarà sempre più una trincea, ma è una trincea, mi chiedo fino a che punto potrà reggere, perché questa tecnologia e l'innovazione, l'intelligenza artificiale sono un'innovazione tecnologica ancora più potente di quella degli anni settanta, su cui è stato pensato lo statuto dei lavoratori, lì c'erano le videocamere, le telecamere davanti agli sportelli dei bancomat, delle banche, adesso abbiamo sistemi di controllo tecnologico, parlavo con un'azienda che mi diceva, noi adesso siamo un'azienda americana, però abbiamo un centro di laboratorio in Italia e noi cosa facciamo? noi vogliamo inserire delle telecamerine, dei caschetti ai nostri dipendenti in Italia che lavorano, perché così noi dall'America riusciamo a vedere esattamente come lavorano e possiamo migliorare la loro prestazione, cioè in diretta dall'America vedono come lavorano in Italia su certe attività, su certe prestazioni. questo è lo sviluppo, dicono ma noi lo facciamo dappertutto, perché non si può fare in Italia? No? Allora tu fai fatica a spiegare e allora poi dopo c'è l'altro discorso, beh ma se non lo posso fare sai cosa c'è, scelgo un paese dove questa cosa è molto più facile, perché anche lì la battaglia poi di difesa e la trincea ha questa controindicazione, perché poi quando uno deve scegliere dove fare investimenti, li fa anche dove, come dire, la vita è un po' battaglia, cioè bisogna fare le battaglie che possono essere vinte, no? Allora un esempio pratico non è non far controllare il lavoratore per capire qual è la sua prestazione e magari l'azienda dice lo voglio migliorare, non è che lo voglio licenziare perché lavora poi ma lo voglio migliorare, ma magari fare come succede in molti paesi, ho delle testimonianze di amici, soprattutto quelli anglosassoni, dove se alle sei di sera sei ancora in ufficio ti cacciano fuori dicendo vai a casa e hai una famiglia. E questa è la battaglia da fare, non come capita qua che ti fanno un contratto a tempo parziale e poi ti fanno lavorare dall'8 del mattino alle 10 di sera. Il problema è quello di un paese che da questo punto di vista non riesce ad andare oltre alle vecchie battaglie, io a volte sento parlare ancora di fabbriche, sì giusto ce ne sono ancora ma quante e soprattutto le fabbriche di oggi sono fabbriche quelle 4.0 con l'automazione, con l'intelligenza artificiale, quali sono i lavoratori ancora che sono nelle vecchie fabbriche? Non tanto, andrebbe fatto uno switch diciamo mentale da parte di tutti. Certo, forse la battaglia, ascoltandovi pensavo a questo, la battaglia sì è anche giuridica, la trincea a cui giustamente faceva riferimento l'avvocato Faila, ma probabilmente è anche uno scontro proprio con la mentalità delle persone, quindi si va anche più in là, un qualcosa di altrettanto intangibile in qualche modo, perché sradicare qualcosa che è profondamente legato, quasi connaturato con in questo caso il nostro paese diventa veramente difficile, una battaglia non dico persa a priori, ma sicuramente complessa, faticosa, come magari nel paese anglosassoni, come diceva il dottor Lombardo, diventerebbe difficile chiedere di più, quindi lo sforzo di restare a lavoro un'ora in più, anche correttamente, comprensibilmente, perché c'è una famiglia, c'è la propria vita, ecco qui c'è un'attitudine, una mentalità appunto che è diversa e quindi scontrarsi con la mente, in primis con le persone, può diventare ancora più complesso. E ecco, per concludere invece, avendo analizzato rischi, pericoli, ma anche potenzialità dell'intelligenza artificiale, volevo sottoporvi appunto quest'ultima riflessione, ovvero vorrei sapere da voi, secondo il vostro punto di vista, quali potrebbero essere le categorie maggiormente penalizzate. Dati alla mano i più giovani sono quasi per natura più propense al mondo digitale e quindi avvantaggiati dalla rivoluzione in atto, ma pare che siano le donne, le lavoratrici donne, quelle più penalizzate anche in virtù dei dati relativi alle facoltà STEM. Allora vi chiedo, l'intelligenza artificiale, oltre a incrementare in generale le disuguaglianze, rischia di aumentare soprattutto quelle di genere? Ma io sono un po' più ottimista, nel senso che poi l'intelligenza artificiale da quel punto di vista dovrebbe un po' pareggiare. Faccio un esempio, ci sono delle aziende che utilizzano l'intelligenza artificiale, le aziende che si occupano di HR, quindi anche di ricerca di lavoro, che fanno una serie di colloqui oggi proprio con l'intelligenza artificiale, utilizzando dei software adatti, dove per esempio al candidato non viene chiesto né di mandare una foto né di indicare il genere. Viene chiesto solo di indicare l'esperienza. Questo perché? Perché l'intelligenza artificiale deve scegliere criticamente, cioè non deve considerare che tu possa essere uomo, donna, possa essere italiano, straniero, bianco, nero, giallo, cioè non ci deve essere questa. L'intelligenza artificiale deve scegliere la persona giusta per quel posto giusto e per portare al colloquio finale il candidato giusto. Quindi da questo punto di vista secondo me le cose miglioreranno molto. In Italia ci sono anche gli esempi di grandi aziende tecnologiche. Microsoft Italia ha avuto per qualche anno, adesso non più, ma Silvia Candiani è stato amministratore delegato e per esempio Microsoft, la cito sempre come esempio, perché credo che nei posti di comando dei vari settori dell'azienda in Italia la percentuale sia tipo 70-30, nel senso 70 donne e 30 uomini, perché sono state fatte nel corso già dagli inizi del 2000 un cambiamento proprio di mentalità, per cui il lavoro anche da remoto era già aiutato se una persona aveva bisogno, se una madre doveva portare i figli a scuola, poteva arrivare in ufficio anche un po' più tardi, quindi era tutto un discorso partito da lontano. Quindi questo discorso si può fare. Certo, per tanti anni la mentalità è stata ingegneria e si iscrivono praticamente solo uomini, ma io vedo tante ingegnere donne oggi. Cioè sta cambiando questa cosa e l'intelligenza artificiale può aiutare molto ed è una risorsa, c'è una ricerca di Accenture che dice che nei settori comunicazione, manufatturiero e finanziario l'utilizzo dell'intelligenza artificiale porterà un aumento del prodotto interno lordo di 6 triliardi di dollari. Allora, sfruttiamo questa cosa, cioè non pensiamo che l'intelligenza artificiale dividerà le persone per genere, per sesso, per provenienza, non pensiamo che l'intelligenza sostituirà i pochi. Certo, oggigiorno se tu vai in un magazzino dove prima si andava in giro con i banchi, tutti con le macchinine dovevano sollevare pesi, oggi lo fanno le macchine autonomamente. Ma va bene, ma le persone che prima guidavano la macchinina adesso sono al computer a controllare che con l'intelligenza artificiale le macchine facciano quel tipo di lavoro lì. È cambiato tanto. Certo, è lo switch. È lo switch, no, che si diceva. Quindi il problema fondamentale è dall'alto, quindi dovremmo coinvolgere la politica, ma non la politica solo il governo. Cioè dovremmo coinvolgere la politica in generale, il governo, opposizioni, chi sta al governo, chi sta all'opposizione, Confindustria, le aziende, cioè è un discorso che andrebbe fatto, bisognerebbe fare degli stati generali proprio su questo, no? Per capire che è il momento di cambiare, cambiare dall'inizio, dalla scuola, dal mondo del lavoro, dal fatto che nelle aziende non è l'intelligenza artificiale, mi sostituisce mille persone, così io pago mille stipendi in meno e guadagno di più. Non funziona così, perché se tu parti con questa mentalità, la tua azienda all'inizio guadagnerà dei soldi, alla fine, secondo me, va a gambe all'aria. Penso che sia condivisibile il discorso e tra l'altro, ecco, mi piace la prospettiva più ottimista e questa attenzione per appunto le competenze, cioè trovare la persona giusta per il posto. Forza di fare allarmi, finiamo per crederci tutti e dire non si fa più niente perché succede il disastro. Assolutamente, l'allarmismo può essere deleterio, è fuori discussione, quindi ecco ora, assolutamente, quindi chiedo anche all'avvocato Failla cosa ne pensa? Allora, dividerei in due, da un lato è corretto quello che veniva riportato, cioè che l'intelligenza artificiale in fase di hiring, di recruiting, non deve discriminare, quindi non deve selezionare se sei maschio o se sei femmina, giustamente, salvo che ci siano delle professionalità particolari dove la richiesta è quella lì, va bene. Quindi è giusto che neanche ti chiedo chi sei, cioè ti valuto per la tua professionalità e per quello che mi dici ma senza guadare neanche, quindi questo qui è un punto. Anche se poi, ma è vero quello che viene detto, le aziende oramai, soprattutto le multinazionali, anzi le aziende italiane di matrice multinazionale sono mai anni che hanno investito sulla professionalità femminile di alta gamma, cioè le aziende con cui lavoro praticamente le HR sono quasi tutte donne, sono quasi tutte donne e sempre più io vedo una presenza femminile, correttamente, nelle fasce medio-alte, una volta non era così, invece adesso una volta il capo del personale era il capo del personale, non era una capa del personale, era un capo del personale, adesso c'è la responsabile del sorso umano e quindi è cambiato tutto. Benissimo. Altra cosa è, quello che si diceva prima, la presenza femminile nelle facoltà STEM e quindi potrebbe essere che l'innovazione tecnologica potrebbe portare a una riduzione della presenza femminile, questo dipenderà da quante donne si iscriveranno a ingegneria, che è verissimo il numero delle donne ingegnere vent'anni fa o trent'anni fa era zero, adesso no, adesso poi cambia e sono bravissime e le trovi poi in azienda e sono delle super manager, quando le trovi sono delle super manager. Poi c'è un tema di compatibilità, balance, famiglia, lavoro, ma quello apre un'altra, anche se, ed è corretto, le aziende, soprattutto le aziende di matrice nord-europea o anglosassone o nord-americana, sono molto più attente a lasciare conciliare i tempi della famiglia con la crescita professionale della donna manager in azienda. Cioè, se io ci tengo e le aziende americane o nord-europee ci tengono a questa cosa, indipendentemente dal manager, ci tengono come filosofia, cioè per loro è un punto di valore. Anche perché facevo un po' ridere, cioè, lo dicevo anche alla mia azienda, assumi una donna e poi improvvisamente scopri che fa figli. Hai buttato via i soldi, hai buttato via i soldi. Mi sembrava vedere questa cosa quando c'erano le colleghe che andavano timidamente o quasi con un paura andare da un soldo superiore a dire scusate io sarei incinta, no, e te la guardavano come è possibile. È cambiato tutto perché da un lato l'azienda non butta via i soldi, quindi se fa un investimento lo deve fare e lo deve mantenere e aiutare a rimanere nonostante. Quindi qui le aziende si stanno muovendo a prescindere dalla legislazione del paese in cui si trovano. Cioè la legislazione italiana, che poi è una legislazione in linea con i paesi europei, perché non è che abbiamo, il problema è la struttura della società italiana, che è un'altra questione. Andiamo a vedere i maschietti, papà, che prendono i permessi allattamento o cura della prole e vediamo l'Italia e confessiamo il confronto con la Svezia, in confronto impietoso. No, perché è questo il tema, è questo il tema. Non è un tema che la legge c'è, il tema è la mentalità, ma questo è un discorso sociale che si apre. Quindi io non temo che sarà quello un tema, forse l'occupazione femminile più impattata negativamente. Io ho sempre in mente la famosa piramide. Allora ci saranno le, quello che ci dicono tutti gli studi, cioè l'occupazione di fascia bassa, la tecnologia, l'intelligenza artificiale non le tocca. Cioè il lavoro di manovalanza pura, lo dico male, di pulizia negli uffici, quelli che vengono alle dieci di sera e lavorano fino alle quattro di mattina, rimarrà. È la fascia bassa. La fascia alta che sarà della piramide, c'è la professionalità, il talento, la creatività, la macchina non la può sostituire. Quello che andrà a toccare, ed è vero quello che diceva prima, il collega dice, prima c'erano nei magazzini c'era l'uomo che spostava le cose, adesso c'è la macchina, quella è la fascia media. La scommessa è se l'uomo sarà in grado di sedersi al computer a manovrare la macchina, se avrà la competenza, se qualcuno gli farà la formazione, oppure se sarà espulso dal processo produttivo e o cadrà nella fascia più bassa o se no la risposta sarà il sussidio universale, perché sarà quello. Qualcuno lo teorizza, le grandi aziende che faranno innovazione coi denari, l'aumento del PIL e coi profitti dovranno tassarsi e pagare un sussidio a quelli che verranno espulsi e non potranno più trovare un assoluta realtà, ovviamente non va fatto come abbiamo visto recentemente, ma va fatto proprio in questo senso, cioè se ci sono delle aziende nel mondo in cui la ricchezza è arrivata a un punto spaventoso, è un dovere morale di queste aziende impegnare una parte dei loro soldi che hanno fatto, perché tanto credo che sedersi sopra un patrimonio di 70 miliardi o di 71 non è che faccia proprio tanta differenza, magari quel miliardo in più destinarlo a questo tipo, perché effettivamente la rivoluzione, come è stata per la rivoluzione industriale d'altronde, la rivoluzione tecnologica comporterà, farà, come dire, delle diseguaglianze e bisogna riequilibrarlo e questo è la scommessa dei governi del mondo ma anche delle aziende e fare in modo che questa cosa avvenga nel modo, come dire, meno peggio possibile, cioè che non ci sia tutte queste diseguaglianze aiutando chi inevitabilmente, perché qualcuno inevitabilmente sarà espulso dal mondo del lavoro, perché non riuscirà a acquisire le competenze, non avrà il tempo di farlo, quindi sicuramente va aiutato. Assolutamente, direi che siamo agli inizi di questa rivoluzione, ma lo abbiamo detto è così rapida che un intervento, un'attenzione, una sensibilizzazione, il più possibile immediata siano essenziali, siano forse delle regole chiave per poter comprendere quello che sta accadendo e cavalcarlo in qualche modo, riuscire a gestirlo con tutti i cambiamenti che comporta anche a livello di disuguaglianze. Io nel frattempo vi ringrazio per la vostra disponibilità, per gli spunti interessanti, per questo confronto prezioso e così attuale sul tema del lavoro e dell'intelligenza artificiale. Grazie. Grazie a te. Grazie.